Ciao, oggi ripassiamo insieme le tabelline e specialmente le numerazioni di ogni tabellina. Segui con me con le mani e poi piano piano dovrai ripetere da solo. Ecco, ripetiamo insieme. Segui la freccia e guarda il numero. 1, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20. Bravo, adesso prova a ripetere da solo guardando i numeri. Bene, adesso prova tu. Segui la freccia e guarda il numero. Molto bene, adesso ancora più difficile per i campioni. Io non parlo. Provaci tu solamente seguendo le mie dita, senza indicazione della mia voce e senza i numeri. Più difficile, prova tu. Guarda la freccia, ma non c'è il numero. Benissimo, ora provare a giocare, a ripeterle più velocemente, ma senza sbagliare però. Benissimo, un campione. Dai, continua ad allenarti se hai bisogno e guarda anche tutte le altre tabelline. Ciao!